Ciao a tutti e bentornati al canale oggi da Zara perché siamo venuti a vedere capote, cardigan, tutto quello che troverò davanti agli miei occhi, iniziamo già con i cieli lingua. Allora entrando subito ho trovato questo maniché, questo qua è un gilet tipo balloon. Il prezzo vi lo lascio qua o ve lo posso dire in questo caso 50 euro. E caruccio, a me è piaciuto. Ok ragazze, continuiamo, continuiamo perché ho visto questo qui, vedete che bellezza, a me è piaciuto il tessuto, il colore ha il collo alto, quindi non c'è bisogno di portare una charpa, un foulard. Qua dice che questo abito qua ha la lana, non c'è la percentualità. Le misure dalla XS fino alla L e il prezzo 70 euro. Proprio qua a fianco ho trovato questo pezzo che ci sono sei bottoni di fronte, il pugno è così, cioè la manica chiedo scusa e il prezzo 90 euro. So che i prezzi qua sono altini ragazze, so che è un po' cioè i prezzi sono adesso sulla nuve. Loro avevano abbinato quello e con questo qua 26 euro chiedo umilmente scusa se sbaglio l'italiano, mamma mia. Allora per 60 euro troviamo questo qua, questo pesava pesava moltissimo e qua a fianco ce n'è un altro. Questo rack aveva tipo un tutti frutti, avevano diversi capotti, diverse giacche e ho trovato anche quest'altra. Vediamo dietro è fatta così e questa pesava di più di tutte e tre. Ok ragazzi continuiamo, continuiamo, ma intanto ti dico il prezzo 60 euro e c'è la capuccia, il cappuccio mi sono sbagliata. Qua ci sono questa camicia in 26 euro. Questa qua non te la faccio vedere tanto perché già l'avevamo visto in video precedenti, soltanto ti dico che c'è il nero e c'è in questo altro colore. E qua a fianco ho trovato questa a righe, vedete? E mi è piaciuta perché il collo sembra come se fosse, non lo so, una blazer. Il prezzo 30 euro. Eccola lì. È caruccia, vedete? A me è piaciuta. Andiamo a vedere la manica e ha due bottoni. Ok, continuiamo perché ho visto questa. Allora io questa la conosco come Levita. Non lo so. Il prezzo 100 euro. Io so che i prezzi sono saliti moltissimo, moltissimo. Però è che Zara si vuole posizionare come un marchio di non semi luso. Però loro non vogliono essere low cost come prima. Per quello c'è Chain. Ok, continuando con il discorso ragazzi, questa qua mi è piaciuta. Continuo di qua perché ho visto questa a 18 euro. Vedete? È come una ticir a manica lunga. Caruccia. Poi qua vediamo, vedo che c'è questo colore grigio e c'è anche il nero. Vedete? Che ne dite? A me piace quella grigia. Qua a fianco ho trovato questo. Guardate che carino questa è chiusa così. Si vede che è molto molto calda. Non lo so se vi ho detto all'inizio le misure perché in questo video adesso sto registrando la voce un giorno dopo dell'inizio, dei primi minuti. Ieri non sono riuscita a finire con la voce quindi adesso. Quindi dicevo le misure qua vanno dalla XS fino alla L. Guardate c'è anche questa in nero. Guardate che carina questa è chiusa così. Si vede che è molto molto calda. Ok, c'è un altro colore. Questa l'ho vista nella pagina web. E qua ragazzi ho visto queste. che belle queste cardigan. C'è anche in colore verde. Vediamo questo di colore beige. Allora innanzitutto ti dico che ha le paillettes bellissime. Sia davanti o dietro ci sono le paillettes e già sia sulle maniche. Adesso ti faccio vedere meglio. Vedete questa zona, questa parte qua non non hanno le paillettes. Vedete questa zona e più il collo. A me è piaciuta moltissimo moltissimo. Mi sono innamorata. 36 euro. Guardate la verde. Bellissima. E poi qua un altro cappotto. Vediamo questi. Allora questo costa 30 euro. Si chiude così con i bottoni a due tasche lì. E il manico così. E guardate qua mi avvicino bene per farvi vedere bene 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 il tessuto dietro così. Un po' trasparente. Non so se si è visto. E qua ho visto questo di colore marrone che pensavo io. Vedete? C'è due toni di marrone. Mi piace quello più scuro. Pensavo io che fosse lo stesso design di questo, però no. Sono diversi. Questo già è un po' top crop. Vedete? È corto. Non è top crop. Scusa. Cioè è corto. È corto. E arriverà fino alla vita. Sì sì più o meno. Si chiude così. È bello. Mi è piaciuto. E andiamo a vedere il prezzo. E questo qua ti dice che è 100% lana. Il prezzo è 50 euro. E la misura è la S. Carina. Carino carino. Andiamo a vedere l'altro. Eccolo qua. Questo è già diverso. Questo è già un cardigan. Vedete? Qua ci sono i bottoni per chiuderla così. Qua dentro in questa bustina c'è un bottone. Non dici che niente che sia di lana. Il prezzo è 30 euro. Qua sto cercando un'etichetta per vedere, no? Se è poliestra e lana. Ho trovato questa etichetta qua, però è piccolo. Cioè le lettere sono piccole. Ho detto ho lasciato stare. Ho detto va bene. Non mi metto a leggere qua. Poi dopo vediamo nella pagina cosa dici intanto. Era come un titolo informativo. Poi ho trovato questa qui che ha la cinta. Caruccia mi è piaciuto il colore. E vediamo questa ha 20% di lana. E il prezzo 80 euro. Lo trovo un prezzo altino, però già vi ho spiegato il perché i prezzi sono saliti. Allora, due tasche. Ecco lì il bottone. È carina. Mi è piaciuta molto molto molto. E qua c'è questo tutto. Oh, che carina. Questo era bellissimo. Al tatto era soffice. Non erano quei tipi di pelletti duretti. Il prezzo 70 euro. Questa è una carezza. Cioè a me è piaciuto molto molto molto. Vediamo. E dietro va bene. È uguale per quelle giornate più freddolose. Con la neve. E qua c'è un blazer. Il prezzo è 56 euro. 55 e 95. 95. Ok. E poi ho visto questo che è come un cardigan. Allora, pensavo che erano i bottoni a me. Invece no. Vedete qua. Si può mettere qualche filetto in più, perché secondo me questo può cascare. Non lo so. Però guardate. È a clip. Vedete? Un caruccio. Però questo è manica tipo tre quarti. Arriverà fino al gomito. Un po' più su. Più o meno. Così. Questa la volevo far vedere per vedere la lunghezza. però si era impigliata giù sotto. Ho lasciato stare il prezzo. 36 euro. Questa è la misura S. Ok. A me è piaciuto il colore. È carinissimo. Ed era soffice. Qua a fianco c'è questa. Vi ho detto che questo tipo di tessuto è molto molto in tendenza. Il leopardato. Il prezzo è 30 euro. E le maniche. Sono maniche corte. Vedete? Viene così. E la parte di sotto te la faccio vedere un po'. Eccola. È carina. Mi è piaciuta. Qua ho visto questa gonna. È stata l'unica gonna che ho ripreso. 50 euro. Allora. Si chiude così tipo pareo e ha due aperture. Questa è l'altra apertura. Eccola lì. Una gonna midi. E ha la cinta che si può cambiare. Puoi mettere un'altra cinta se quella lì non ti piace. Qua in questo casino ho visto questo cardigan bellissimo. Eccolo qua. Ci sono i bottoncini. Questi pezzetti così. Vedete? Tipo così. Vedete? Come tipo borche. Non viene cucito. E il manico tipo tre quarti può essere? Sì. A me piace a volte vedere questo sul manichì. Lo trovo che si veda meglio, no? Però a volte non c'è il manichì. E quindi. Però ho trovato la foto e arriva fino al gomito. Questi qua sono le tasche. Bello. E questi qua. Questi cappotti. Guardate ragazzi. a 30 euro. A me questo è stato il mio preferito in assoluto. Ha un bottoncino. Il prezzo è ottimo. Si vede che è un po' coprente. Cioè per l'inverno va bene. E c'è anche in colore nero. E in colore azzurro. Guardate questo. Azzurrino così. Che bello che è. Guardate. Qua mi avvicino bene per farvi vedere bene il tessuto. Caruccio. E poi c'è quest'altro colore. Sono indecisa tra questo e tra il primo che ti ho fatto vedere. Entrambi mi piacciono. E il prezzo è 30 euro. E ha anche una tasca. E che il prezzo è molto basso. Cioè 30 euro. Un cappotto canzara così. Si che lo so che non è invernale invernale. Però ci può stare. E poi questo qua. Questo si che non era così soffice come quello bianco. Però mi è piaciuto. Il prezzo 80 euro. Viene foderato dentro. E qua è la clip per chiuderlo. Vedete? Non ha i bottoni. E' carino. Che bello. E' carino. In più il leopardato è molto molto in tendenza. Ecco il collo. Non so se si toglie il collo. E' questo qua. Tutto puccioso. Sembra la pelle di un cane. No? Allora. Il suo prezzo è 90 euro. E' caruccio. Carino. Mi piace. Va bene ragazzi. Il video finisce così. Se il video vi è piaciuto e volete che io continuo a venire qua a Zara, fatemelo sapere. Regalatemi un like. Cercherò di venire qua per farvi vedere borse, scarpe e accessori. Voi bene ragazzi. Vi mando tanti besitos e ci vediamo prossimamente in un prossimo video. Iscrivetevi al canale. Ciao!